La solidarietà civile è stata tutto, senza loro noi non potevamo esistere, anche per i contadini, subito eravamo troppi in un coso ristretto, avevano solo castagne, fagioli, ma non potevano darne loro, avevano i campi, però ci hanno aiutato, ci hanno dato la polenta quando potevano, facevano la polenta, facevano il grano anche allora, la sua, Montenotte, va bene, grano poco, però ci hanno dato le castagne secche, ce l'hanno le castagne, se mi ricordo il mese di novembre, a partire da fino a ottobre, novembre, io le castagne le ho odiate, le ho mangiate in terminiere, nel latte quando c'era con la zutta asciutta, ce le facevamo da solo, avevamo fame in un coso, eravamo lì e facevamo un fuoco, quando si poteva, no? E poi loro ci hanno aiutato, e io se posso dire grazie ai contadini che facevano le carboniere, se ho la vita salva, perché noi siamo stati tre giorni, in cinque, dentro a un cunicolo, chiusi col col col, perché loro avevano anche i cani che ci facevano alla ricerca, e non ci hanno trovato, no? Eravamo, eravamo, erano due di Vado, uno di Albissola e due di Savona, e due di Savona, e che poi ci hanno, la strada per attraversare il Vispa, siamo andati lì dietro agli altri, abbiamo trovato poi, perché eravamo tutti, ci hanno dispersi tutti, tra i distaccamenti sono stati distrutti, i tendaggi, tutte le masserie che c'era, proprio tutto è andato a zero, sono andati a San Bolino, c'era Gino Crevani, che non mi ricordo il nome di battaglia, era di Guaria, oltre alle, perché loro avevano già preso tutte le pattuglie che erano a circolo, perché ogni distaccamento faceva partire una pattuglia con setto, otto, dieci uomini, le pattuglie le hanno, avevamo la contrabante nel distaccabolo, poi Mento Bocci, c'era la contrabanda di Calice Ligeron, c'era Quaglia Blavink, poi il sergente Lili, noi l'abbiamo catturato, è stato catturato per caso, è stato ucciso nel 1945 al 24, il 24 al pomeriggio sarà stato le tre, nella frazione di Aschivuà, quello lì era segnalato dall'Adronoda, come criminale di guerra, perché ha ucciso anche gli inglesi, era dalla contrabana, allora, quello lì, quando è successo un fatto, hanno fatto un rastralamento, hanno preso vento, un sapista che mi chiamava vento, e le avevano buttato giù i denti, quando è venuto, noi, tutti noi abbiamo visto un mucchio venendo giù al 24, no, alle tre, venivamo giù alle due e mezza, alle tre, e un sacco di San Marco, tutti lì, era una giornata anche discreta, non era fredda, no, come adesso che aprile, alle volte è ancora fredda, e abbiamo trovato qualcuno, c'è qualcuno ha fatto nel mare, potevamo mica, e ormai andavamo giù verso Savona, e poi venendo giù, noi ci chiamavamo andare a Roba Reba, era un ufficiale d'operazione, perché la brigata è passata da Sant'Ogare, noi, una parte, siamo passati da sopra, da lì, da Schivuò, a Marmorassi, al Pino, sopra la Vagnola, no, e di lì abbiamo sparato ancora l'aereo, ecco, lì, venendo giù, abbiamo visto, erano in quattro, tre erano così, normali, e uno aveva i pantaloni da ufficiale, allora sto roba, c'è, come mai che ha i pantaloni ufficiale? Noi non abbiamo fatto tempo a dire niente, è uscito sto vento che ci aveva buttato giù, non hanno preso cinque, non l'hanno uccisi, però a lui ci hanno buttato giù la mascella, e tutto, questo qui come l'ha visto, lo sergente lì, lì, noi non abbiamo fatto tempo, questo qui come ha visto che è stato riconosciuto, Brun si è buttato, pensando di farcela scappare, invece, lì c'era tutta spina, se lei va a vedere il posto, ancora adesso, ancora di più adesso, le spine, si è buttato lì, noi siamo stati lì, non abbiamo avuto tempo di fermare, questo qua, ferma, avevano già scaricato lì, va bene, quello lì solo meritava, perché era segnalato dalla drona.